Ciao Marco, un saluto per tutti gli utenti del web, gli utenti su internet che ti ascoltano, che ti seguono da sempre. No, per quelli che ci seguono o non ci seguono. Perfetto, per quelli che ci seguono. Ne rispetto le opinioni a condizione poi che nella loro vita siano coerenti con le loro opinioni come noi lo siamo con le nostre. Ti ringrazio, salutiamo allora. Ciao, salutatore Marco Parnello.